Questo Welcome Card non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza, di conseguenza vorremmo attivare queste dinamiche, queste politiche in questa forma, con questi obiettivi che sono a volte ambiziosi ma importantissimi, che sono quelli dell'accoglienza e dello sviluppo e dinamiche appunto legati al miglioramento dell'offerta turistica del nostro territorio. È un'operazione partita, di conseguenza ha molte immagini di miglioramento, siamo consapevoli che non sempre all'inizio si fanno le cose in maniera perfetta, saremmo esagerati e sbaglieremmo se pensassimo di essere così presuntuosi. Però importantissimo è cominciare, cominciare a raggruppare idee e svilupparle, perché di idee ne abbiamo sempre tante, è lo sviluppo delle medesime che a volte contrasta un po' con la realtà dei fatti. Sono pertanto molto felice di promuovere questa Welcome Card che per il primo anno si sviluppa su sei comuni e sono anche fiducioso rispetto all'ampliamento e allo sviluppo che avrà questa Card. L'iniziativa partita dal proloquo di Rovetta è stata approvata anche dagli altri comuni che l'hanno adottata. Esatto, siamo alla seconda edizione di questa Welcome Card. Quest'anno abbiamo pensato di proporla al Consiglio dell'Unione dei Comuni che l'ha accolta molto positivamente e questo ci ha fatto piacere. L'area che ora copriamo è effettivamente più giusta rispetto a quella che avevamo lo scorso anno. L'Unione dei Comuni ha offerto una scelta vastissima di partner, infatti abbiamo circa 60 partner. al momento una varietà di proposte che sicuramente possono essere fruibili dal turista anche più esigente e quindi speriamo che quest'anno sia un ulteriore passo avanti per arrivare ad un prodotto sempre più piacevole, interessante e fruibile dal turista occasionale oppure dal turista estivo. Parliamo di promozioni sul prezzo che vanno dal 5 al 10% che coinvolgono le diverse attività. Esatto, circa sul 10%. I settori sono cultura ovviamente, al primo posto la vogliamo sottolineare, di tutti i musei della nostra zona, da Schilpario fino al Museo dei Magli di Nossa. Poi abbiamo lo sport e il tempo libero che la fa da padroni perché obiettivamente lì le occasioni per sfruttare il nostro territorio sono vastissime. Poi abbiamo i prodotti tipici, le due cooperative della Val Seriana e della Val di Scalve. Quest'anno nuovo settore è quello delle attività commerciali sul nostro territorio, anche questo ricco di proposte molto interessanti. Non ultimo, il settore dell'ospitalità e della ristorazione. Abbiamo per ora pochi alberghi, ma sicuramente tante proposte dal punto di vista della ristorazione, quindi sconti su menu alla carta o su menu a prezzo fisso. Grazie a tutti.